Abbiamo portato l'esperienza di sette anni in giro per l'Italia partendo dall'idea di Spumantitalia. Quindi era una segna che aggregava intorno al sistema spumantistico un numero di consistenti di aziende. Però indubbiamente la nostra esperienza ci ha portato a considerare un fatto importante. Queste aziende erano soltanto alla punta di un iceberg intorno alle quali si costruisce un sistema spumantistico che aggruppa un numero consistente di aziende che in maniera diretta o in maniera indiretta producono bollicine. Allora quale migliore occasione che andare a trovare a casa loro? Ecco che è nata Bubbles on the road, un appuntamento su territori spumantistici italiani per capire lo stato dell'arte del sistema spumantistico di quella regione o di quel territorio specifico. Quindi buon viaggio a Bubbles Italia.